Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza per questa importante presentazione. Prima di iniziare, di entrare nel vivo della presentazione, un video realizzato dal Sottotitolo Giovanile Scolastico che introduce questa manifestazione, la più importante d'Italia a livello giovanile. Grazie per la visione! 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 tramite dello sport, perché lo sport, il calcio in particolare, ma tutti gli sport portano giovani, portano interesse, portano entusiasmo, trasmettono valori, anche se avviene in un ambito di competizione, però portano valori positivi e a noi ci piace anche essere portatori di questi valori positivi, che oggi in un momento particolare, credo per l'Europa, per tutto il mondo, dopo la pandemia, in una guerra surreale che ci sta sfiorando, toccando e coinvolgendo da vicino, credo che riuscirci a regalare qualche momento anche di distrazione possa essere un tema importante per tutti, ma in maniera particolare anche per le nostre comunità. Mi fa piacere anche che alcune di queste partite verranno disputate in territori che hanno subito il sisma e auguro a tutte queste comunità di poter ritrovare, anche per il tramite di queste manifestazioni, un po' di serenità, un po' di centralità, un po' di normalità anche per loro. Speriamo che sia un periodo e siano delle manifestazioni che riescano e anche speriamo, perché no, di poterle ripetere anche in futuro, dato che, ripeto, per noi è molto importante trovare strumenti che ci aiutano a far conoscere la nostra regione e che garantiscano e possano garantire anche un senso di valorizzazione a tutto il territorio marchigiano. Io vi ringrazio per questa opportunità e sicuramente avremo occasione di vederci, di incontrarci durante alcune di queste partite. Un saluto a tutti i rappresentanti della federazione, anche marchigiana, e un saluto al presidente del CONI, Fabio Luna, con cui ci incontriamo spesso girando le marche e in tutte queste manifestazioni, nelle finali, in tutte le occasioni che ci è possibile. Devo dire che lo sport marchigiano, parliamo di calcio, ma devo dire che lo sport marchigiano ci sta riempendo veramente di tante vittorie, successi e soddisfazioni che ripagano lo sforzo che compiono tante società piccole, le difficoltà che devono affrontare, quindi questo è un bel segnale che mi piace sottolineare. Grazie. Grazie Presidente. La parola al Presidente del CONI regionale, Fabio Luna. Grazie. Anch'io ho piacere di portare il saluto del Comitato Olimpico regionale. Prima di tutto vorrei ringraziare sia la Federazione Italiana Gioco Calcio, nel settore giovanile e scolastico per l'invito. La Regione Marche, per aver coinvolto anche il CONI per questo appuntamento veramente importantissimo. Mi riallaccio un po' a quello che il Presidente Acquaroli ha detto proprio al termine del suo intervento. La nostra Regione ci sta dando grandissime soddisfazioni a livello sportivo per quanto riguarda i risultati che sta ottenendo, specialmente anche in questi ultimi periodi. Ho avuto modo di ricordarlo l'altra sera quando eravamo ospiti della Federazione Gioco Calcio al Galà del Calcio a 5, una manifestazione, una serata bellissima. Io ho detto che se pensiamo solamente a quello che è successo nella nostra Regione nelle ultime settimane, non parlo degli ultimi anni, nelle ultime settimane si è vinto uno scudetto con la Lube Macerata, si è vinto un sesto scudetto con la Fabriano nella ginnastica ritmica. Abbiamo un ragazzo stupendo come Tommaso Marini che ha vinto tre prove della Coppa del Mondo di Fioretto. Abbiamo praticamente per la prima volta nella storia, e questo è qualcosa che è passato anche un po' in sordina, per la prima volta l'Italia ha vinto con una sua ginnasta la Coppa del Mondo di Ginnastica Rittmica, non era mai successo nella storia italiana e l'ha vinta con una ragazza di Chiaravalle che è tesserata con Fabriano e potrei andare avanti con tantissimi altri risultati. Tutto questo però non deve mettere in secondo piano perché nei ultimi tempi la nostra Regione si sta mettendo in luce e sta penso anche dando una bella immagine di sé all'esterno fuori dai confini regionali anche per l'organizzazione di grandissimi appuntamenti sportivi. Su questo devo dire grazie alla Regione perché queste cose non vengono per caso, ma abbiamo una Regione che ha creduto in questo, ha creduto quanto sia importante ospitare eventi sportivi, tant'è vero che siamo anche stati ospiti della Regione alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano dove praticamente quando si parla di turismo si parla pure di quanto sia importante il turismo sportivo. Nella nostra Regione più del 10% dei turisti che arrivano, arrivano grazie allo sport. E questa vicinanza con la Regione fa sì che possiamo vivere veramente tantissimi grandi appuntamenti, non vi annoio, se no vi dovrei elencare veramente quello che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi e questo che andremo a vivere con la Federazione Italiana Gioco Calcio rientra sicuramente in questi appuntamenti di livello nazionale e non solo. È logico che nel momento in cui parliamo di circa 30 squadre che arrivano nella nostra Regione sappiamo tutti quanto sono i componenti di ogni squadra, la sua magari a livello di dirigenti, tecnici, accompagnatori e quant'altro. Tutto questo è sì importante perché qualcuno diventerà campione d'Italia ma è anche molto importante per quello che diceva sempre prima anche il Presidente per un discorso anche economico di ricaduta e di far conoscere il nostro territorio. Chiuso dicendo che in un periodo veramente difficilissimo per il Paese d'Italia lo sport non è da meno, lo sport ha avuto veramente delle criticità molto molto importanti. abbiamo cercato di superarle con le nostre società in maniera silenziosa perché conosciamo la testardaggine dei nostri dirigenti, abbiamo cercato di superarle non tanto perché grazie allo sport un domani andremo a vincere un'altra medaglia come raccontavo prima, ma perché sappiamo quanto sia importante per la ripresa di un territorio avere un movimento sportivo che faccia veramente sport per tutti quei valori che poco prima venivano ricordati. Pertanto se il Paese d'Italia parte, se la nostra regione sicuramente ha entusiasmo e comincia ad avere qualche sorriso in più rispetto a qualche mese fa mi sento di dire che lo sport in questo sta contribuendo veramente tanto e ne siamo particolarmente orgogliosi. Grazie Presidente. Io dovevo solo aggiungere i saluti del Sindaco di Torentino Bezzanesi che non può essere presente e mi ha pregato di portare il suo saluto a questa conferenza stampa. Anche il Sindaco di San Benedetto e ringrazio, ho scordato prima, l'assessore Raddini per l'impegno profuso in questa direzione. La parola al Presidente del settore giovanile scolastico Vito Tisci. Grazie, buonasera a tutti. Con immenso piacere che porgo il saluto mio personale del settore giovanile scolastico che rappresento, a tutti gli intervenuti, alle autorità politiche, sportive, agli organi di informazione che svolgono un prezioso lavoro nel divulgare all'esterno le nostre iniziative. Desidero anche porgere il saluto del Presidente federale, Gabriele Gravina, che guarda con grande attenzione il mondo giovanile e soprattutto la valorizzazione dei giovani rappresenta uno dei pilastri del suo mandato e del suo programma elettorale. Saluto e ringrazio per la presenza il Presidente del CONI regionale, Fabio Luna, sempre vicino alle nostre manifestazioni, e tutti i rappresentanti della famiglia del calcio marchigiano, Ivo Panichi, il Presidente della Lega di Rettanti, Marco Capretti, responsabile calciacinque, e anche Vice Presidente del Comitato, e il nostro coordinatore Floriano Marziali, che sicuramente non faranno mancare il loro supporto in occasione di questa manifestazione. Ringrazio in modo particolare il Presidente della Regione Marche, il Dottor Francesco Acquaruli, per aver messo a disposizione questa location oggi, ma soprattutto ringrazio per la straordinaria accoglienza che ci ha riservate e con l'entusiasmo con il quale siamo stati accolti in questa Regione. Da subito il Presidente, nell'incontro avuto l'8 febbraio, ha creduto e sposato questo progetto con grande decisione, dimostrando sensibilità verso il mondo dello sport e verso la crescita dei giovani. Un grazie a tutti i sindaci dei comuni che hanno messo a disposizione, qualcuno assente, qualche rappresentante presente, gli impianti sportivi di ottima qualità, ma anche ringrazio i rappresentanti delle società sportive, qui ne vedo qualcuno presente, per il loro proficuo impegno sul territorio al fine di assicurare il regolare svolgimento e il successo della manifestazione. E devo dire che sono soddisfatto, in questa Regione ho trovato un grande gioco di squadra. La vicinanza delle istituzioni politiche è fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa di carattere sociale e sportiva. Vorrei anche ringraziare il Consiglio regionale Renzo Marinelli, scusa non ricordavo il cognome, che è stato il nostro primo interlocutore per venire in questa Regione e lo ringrazio per il suo impegno. Vorrei fare alcune precisazioni, perché stamattina ho letto in rassegna stampa alcune polemiche sulla individuazione dei CAMEC. Vorrei precisare che il campo, sono due importanti capologhi di provincia, mi riferisco a Pesaro e Macerata, ma c'è anche Civitanova, Pesaro sono iniziati a giugno i lavori al mando in erbe artificiale, il campo è indisponibile, mentre Macerata e Civitanova, quando c'è stata la visita dei nostri addetti, in quel periodo le due società erano in corso per i pre-off, per cui non potevano assicurare il campo. Ecco perché non abbiamo scelto Macerata, non abbiamo scelto Civitanova e Pesaro per questioni proprio di il campo è inagibile. Stamattina in rassegna stampa ho letto una polemica, l'ho evidenziato, allora ho voluto approfittare di questa conferenza stampa per chiarire perché nulla con... Io siccome fa ben sperare che è nata subito una scintilla fra me e il Presidente Acquarone, che durerà molti anni, per cui avremo occasione nelle prossime edizioni di partire da Macerata, da Civitanova e da Pesaro. Come dicevo prima, dopo cinque... Ah, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo. Ah, ho capito. Sì, ma capisco che molte volte sono delle polemiche strumentali, pretestuose, perché io ho letto in assegna stampa questa cosa, allora ho detto oggi in conferenza stampa voglio parlarvi perché non siamo andati. Dicevo, dopo cinque anni nell'Emilia Romagna, quest'anno sarà la bella regione delle Marche ad accogliere le fasi finale dei campionati giovanili, sia professionisti che direttanti. Ci saranno dodici finali e l'assegnazione di dodici titoli di campioni d'Italia, per cui una grande festa del calcio giovanile che durerà ben quindici giorni, durante il quale la regione Marche sarà il punto di riferimento di tutta l'attività giovanile nazionale. Sarà una vetrina di giovani che ambiscono a diventare professionisti e che potranno dimostrare il loro valore di tecnico in campo, ma anche la loro maturità dopo il triplice fischio. Questa manifestazione, oltre a privilegiare l'aspetto agonistico, diventa anche una palestra di vita dove questi ragazzi potranno rafforzare i legami fra di loro, potranno contrarre nuove amicizie e questo va ancora a maturare la loro persona, la loro crescita. I ragazzi non si divertiranno, come ha anticipato il Presidente Aquaroro, in campo, ma avranno anche la possibilità di apprezzare le bellezze naturali, paesaggistiche di questa Regione e soprattutto apprezzare l'ospitalità, che è una delle carte, diciamo, vincente della Regione Marche. Sarà anche un'opportunità di promozione delle turistiche del territorio, perché ci sarà una copertura mediatica importante, nuove gare saranno trasmesse in diretta da Sky e poi abbiamo fatto un accordo con Scuola Zoo, che social media parte per tutta la manifestazione. Ringrazio qui oggi la presenza del Direttore Mammone, che vedo in sala. Grazie per la presenza. Io concludo il mio intervento formulando a tutti i calciatori un sincero in bocca al lupo e sono convinto che anche quest'anno a vincere sarà lo sport con i suoi valori fondamentali, per pre, la lealtà rispetto dell'avversario, rispetto delle regole, il san agonismo e che voglio ancora precisare, visto che si tratta di cambiare i giovanili, che il calcio è un divertimento e deve essere interpretato come tale dalle future generazioni che rappresentano il futuro del nostro Paese. Grazie e buon calcio a tutti. Grazie Presidente. Adesso la parola al collega Stefano Tribuzzi, responsabile dell'area agonistica del settore regione del scolastico, per illustrare il format di questa manifestazione. Grazie Fabrizio, buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Riprendo un dato presentato poco fa dal Presidente Tisci, ci sarà l'assegnazione di 12 titoli nazionali che passerà attraverso la disputa di 24 gare complessive, 16 di calcio a 11 e 8 di calcio a 5. Scorrendo un po' il programma in ordine di competizione, abbiamo l'under 18 professionisti, qui il quadro si è delineato mercoledì scorso con la Fiorentina che ha battuto l'Inter nell'ultimo play-off disputato, per cui si giocheranno le semifinali il 16 di giugno a San Benedetto del Tronto, Bologna-Fiorentina e al Del Duca di Ascoli, Roma-Spal, finalissima sempre ad Ascoli il 18 di giugno. Under 17, Serie B, qui il quadro va delineandosi, domenica prossima, domenica 12 giugno, si svolgerà le gare di ritorno dei quarti di finale, dopo di che avremo il quadro delle semifinali, quindi la vincente tra Atalanta e Milan affronterà Bologna o Juventus a fermo il 19 giugno, nell'altra gara di semifinale la vincente tra Roma-Fiorentina affronterà la vincente tra Inter e Lazio ad Ascoli, stesso giorno, finalissima il 21 giugno al Del Duca di Ascoli. Andiamo avanti con l'under 16, nelle Marche discuteremo soltanto la finalissima, primo e secondo posto, la finale Scudetto, le semifinali come vedete da calendario inizieranno domenica prossima per concludersi con la gara di ritorno il 19 giugno, arriveranno nelle Marche una tra Vicenza e Milan e una tra Roma e Juventus. Stesso format per i 2007, per l'under 15, quindi si discuteranno le semifinali il 12 e il 19 giugno e arriveranno qui nelle Marche con finalissima a Tolentino, stadio della vittoria, una tra Fiorentina, Bologna e Roma-Milan. Passiamo all'under 17 di Serie C che sarà la prima competizione ad essere disputata qui nelle Marche e qui il quadro come vedete è delineato, quindi giocheremo gara di apertura delle finali nazionali il 15 di giugno, ore 17, allo stadio della vittoria di Tolentino, Avellino-Padova e la seconda semifinale a fermo, ore 20, per Gorettese-Cesena. Finalissima al Recchioni di Fermo il 17 di giugno. Andiamo avanti con l'under 16, le semifinali si sono giocate e la gara d'andata domenica scorsa e si concluderanno domenica prossima. Arriveranno nelle Marche a Tolentino 22 giugno ore 19, una tra Cesena e Prosesto e una tra Padova e Virtus Entella. Concludiamo l'area riservata alle competizioni professionistiche con le due semifinali in programma domenica prossima e domenica 19 giugno, nella prima Bari-Provercelli, nella seconda Cesena-Pontedera. Soltanto due tra queste società disputeranno la finalissima al Bruno Recchioni di Fermo il 26 di giugno. Passando ai dilettanti e quindi alla parte finale di questo calendario, il 30 di giugno giocheremo la finale dell'under 18 dilettanti che è una competizione tra l'altro agli esordi, al battesimo iniziata quest'anno nella 21-22 nella stagione sportiva corrente. Finale il 30 giugno ore 18 a Matelica Giovanni Paolo II. Matelica sarà anche la sede delle altre due finali dei dilettanti, l'under 17 alle 16 e 30 del 27 e a seguire quindi stesso campo la finale dell'under 15 dilettanti. Chiudiamo con il calcio a 5 finali under 17 e under 15 qui lo scenario sarà quello del Pala Rossini di Ancona e quindi avremo quattro gare di under 17 con semifinali il 28 giugno e finalissime il 29 e chiudiamo con l'under 15 di calcio a 5 calendario pressoché speculare quindi due gare di semifinale il 28 di giugno e finalissima sempre e tutto al Pala Rossini il 29 di giugno e grazie mille. Prima di chiudere vi lasciamo con un video che ha girato il commissario tecnico della nostra nazionale Roberto Mancini Ciao a tutti mi spiace non essere lì con voi ma siamo in ritiro a Coverciano e oggi partiremo per Birmingham per affrontare l'Invilterra voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti i calciatori impegnati nei finali giovanili che quest'anno si rispuderanno nelle Marche nella mia regione e sono certi che sarà una bellissima avventura e chissà chi è dentro dalle nostre gare non riesca a vedere una finale di campione un abbraccio a tutti e tanti saluti grazie a tutti grazie a tutti